Queste sono le chiavi della mia attività. Io stasera ho finito, perché domani i miei negozi li aprite voi. Niente di personale. Allora, io vi chiedo di essere tutti abbastanza brevi e concreti, così riusciamo a esprimerci tutti su questi temi che sono importanti. Partirei da Oscar Giannino. Fare per fermare il declino. Ciao Oscar, ti continuo a dare del tu per me, sei ancora un amico e un collega. Quando poi diventi premier ti giuro che ti do del lei. Vabbè, tempi lontani. Nel frattempo, la prima cosa da fare, secondo te, appena si vince la campagna elettorale e si va a governare? No, sul tema però, non la prima in generale. La prima in generale sarebbe un'altra. Senti, sul tema, mi compiaccio che stamattina leggo sui giornali che Monti ha cambiato ordini a Beffera, perché vuol dire che il vampiro teme l'avvento di un raggio di sole, per così dire. Quello che dico è che bisogna distinguere nell'ordinamento tributario, nel contenzioso, nei procedimenti di esazione, gli evasori veri da chi è in difficoltà per la crisi. Un ordinamento tributario che non è in grado di distinguere, un evasore, da migliaia e migliaia di imprese che per mancanza di ordine, di liquidità, per il rientro bancario, non sono in condizioni di onorare impegni tributari che pure si presentano di fronte agli sportelli tributari per dire, ma ti converrà bene darmi proroghe piuttosto che mettere interessi come se fossero sanzioni e caricarmi ancora di roba e farmi chiudere, perché perdi il gettito sul reddito della mia impresa e su chi ci lavora, è un ordinamento tributario assassino. Io uso apposta questi termini duri, li ho sempre usati, non c'entra niente quello che faccio adesso in campagna elettorale, perché sono sempre più colpito negli anni da come la politica per non tagliare la spesa abbia finito per far evolvere un ordinamento tributario che non è uguale per asimmetria e intollerabile violazione dei diritti naturali del contribuente in tutto il mondo, in tutto il mondo dei paesi avanzati, naturalmente poi ci sono i paesi autoritari, cioè da questo punto di vista nel 2012-2011 la moria di imprese che c'è stata e le tantissime denunce pubblico nella tua trasmissione, nella mia che abbiamo fatto, sono rimbalzate sul granito, cioè lo Stato ha comunque anteposto la sua sete inesauribile dicendo la virtù è quella di prendere dove c'è, io non vi pago cari miei, voi addirittura dal gennaio di quest'anno addirittura i privati dovrebbero pagarsi a 30 giorni, lo Stato non ha neanche la contabilità dei suoi debiti, allora questa cosa non c'entra niente con soffiare sul fuoco della protesta, questa cosa è la constatazione che per rispostare verso un equilibrio, un equilibrio nel rapporto tra noi contribuenti e lo Stato rispetto alla totale asimmetria che ci spoglia di diritti, c'è bisogno di politica ma c'è anche bisogno di una protesta più forte, la mia opinione è che se la prossima legislatura si comincia con altre tasse bisogna andare in piazza e bruciare le cartelle, cioè autodenunciarsi, protesta civile. Benissimo, Garavaglio.